Nel nostro studio dentistico vogliamo garantire igiene e sicurezza ai nostri pazienti, grazie al vapore secco a 160 gradi di Virba. Finita la seduta di ogni paziente, prima di far accomodare il studio successivo, utilizziamo Virba per igienizzare la poltrona e non di sua parte per garantire sicurezza anche al paziente successivo e grazie al vapore secco di Virba andiamo a decidere ogni carità batterica. Con il vapore secco a 160 gradi andiamo a digitizzare tutti i nostri strumenti prima di inserire le nostre clave. Andiamo a sanificare la sala d'aspetto. Per noi la salute è al primo posto. Grazie a tutti i nostri strumenti, grazie a tutti i nostri strumenti.